La relazione sull'epigenetica ha già ampliamente anticipato quello di cui parlerò. Ringrazio tutto il direttivo dell'Associazione AMIA, il dottor Massimo Spattini, Damiano Galimberti, Paolo Mariconti. Ringrazio anche moltissimi medici e amici che conosco qui in sala. Grazie di cuore dell'invito. Parliamo di epigenetica da un punto di vista ambientale. Quindi una rivoluzione epigenetica nell'era dell'inquinamento. Parliamo di una rivoluzione nel mondo della medicina, come sapete, degli ultimi anni. Quella che ci ha permesso di dire che la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino. La vita è urgente perché oggi ci siamo e domani non si sa. Il DNA non è il tuo destino e perché, come sappiamo, tutto ciò può essere rappresentato dal ruolo dell'epigenetica per la nostra salute. Sicuramente è una grossa responsabilità anche per quello che abbiamo noi come esseri umani nei confronti delle future generazioni, se andiamo un po' ad approfondire il concetto dell'epigenetica. In effetti tutto parte da quello che noi mangiamo e quello che respiriamo e dall'ambiente in cui viviamo. Quindi mangiamo per produrre, per avere l'idrogeno, respiriamo per avere l'ossigeno e quindi produciamo energia a livello mitocondriale. Ma se c'è un problema di disfunzione mitocondriale c'è un altro problema che si aggiunge a tutti i fattori epigenetici e i segnali che possono danneggiare la nostra salute. Siete d'accordo? Quindi l'ambiente in cui viviamo, ma soprattutto l'eredità epigenetica, influisce moltissimo sulla nostra salute a cominciare dalla disfunzione anche mitocondriale in linea materna e dalle costituzioni della nascita, che se ne parla pochissimo. Quindi anche il terreno, quindi tutto ciò che noi attraverso la nutrizione e la respirazione portiamo per la produzione di ATP è sempre condizionata sia dal giusto apporto di consumo di ossigeno a livello mitocondriale e dai nutrienti specifici. Ma oggi non viviamo più i 100, 200, 300 anni fa. Abbiamo una serie di fattori, soprattutto ambientali, di interferenti, e vedremo interferenti endocrini che condizionano pesantemente la nostra salute a cominciare proprio da prima del concepimento, quindi dalla salute dei padri e delle madri prima del concepimento. E questo non si tiene mai conto in una fase di un approccio clinico integrato quando andiamo a parlare magari di interferenze da campi elettromagnetici che come sappiamo danneggiano il DNA mitocondriale. Oppure pensate quanto le radiazioni, il radon per esempio, se ne parla pochissimo di quanto il radon possa causare dei problemi di salute. E' vero, sappiamo benissimo che siamo tantissime cellule, c'è un problema che non si parla in maniera adeguata della carenza di ossigeno a livello cellulare mitocondriale e tessutale. Allora tutto nasce da qua, da questa meravigliosa dono della vita dove scarichiamo quell'app, che non è quella del telefonino che andiamo in panico se si scarica, ma è l'app della vita. Io sono andato in panico ieri sera perché mentre facevo questa relazione non avevo più il cavo di ricarica dell'andata america, l'avevo caricato già nella chiavetta. E quindi andrò veloce perché non è proprio quella che... volevo farla molto più corta ma non sono riuscito a tagliarla. Quindi cellule, incontro tra due cellule, scarichiamo quell'app della vita, ma scarichiamo anche tutta l'eredità di quello che hanno fatto i nostri padri e le nostre madri prima del concepimento. E in questo il fattore cruciale è l'inquinamento. Se ne parla pochissimo dell'impatto ambientale, veramente poco ancora, soprattutto a livello universitario. Se vi chiedo quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento, beh ce l'ho detto adesso, sì lo sappiamo. Però se vi chiedo cosa fate voi per risolvere i problemi legati all'inquinamento, voi che avete a che fare con i vostri pazienti, è difficile trovare una soluzione. Molto difficile. Pensate solo a togliere il cellulare ai vostri figli prima di andare a dormire o spengere il wifi in casa. Già questo sarebbe una rivoluzione, pure non si fa perché si ha paura di dire di no. Viviamo in questo ambiente dove a un certo punto le sostanze chimiche, idrocarburi, radiazioni, metalli tossici ci influiscono pesantemente sulla salute delle nostre cellule, ma cosa facciamo per risolvere questi problemi? Per prevenire il danno. Contenuto soprattutto anche, e dato anche dai campi elettromagnetici. Io amo paragonare tutto quello che noi dove viviamo e quello che facciamo ad un acquario. Pensate se quell'acquario fossero le nostre cellule che vivono in un mare meraviglioso che è il nostro mesenchima e il tessuto connettivo. E pensate cosa facciamo ogni giorno a quell'acquario. Mai ci sogneremo di mettere sostanze chimiche in un acquario dove teniamo i pesciolini. Eppure tutti i giorni mettiamo cibo contaminato, soprattutto lo diamo ai nostri bambini, ai nostri figli, ma alle future generazioni. E questo è un problema perché poi abbiamo a che fare, abbiamo sentito parlare di membrana cellulare, abbiamo sentito parlare di scambio magari di informazioni, di segnali. E cosa arriva alle nostre cellule se vivono in quella situazione? Allora, se tutte le patologie partono a livello cellulare, dobbiamo incominciare da un punto di vista tecnico, io, ma voi da un punto di vista medico, cominciare a capire qual è la verità. Se noi guardiamo quella immagine e vediamo dei cerchi, dei quadrati e ognuno lavora con parti stagni separati, dobbiamo incominciare a unire le forze, capire cosa possiamo veramente fare per le future generazioni. A cominciare di quelle informazioni che già prima ci hanno detto, del fatto che l'epigenetica è il vero software della vita. Allora, tutto quello che possiamo fare è unire i pontini, quindi l'accumulo di quello che sono poi i danni che possono causare uno stress. E sappiamo quanto siano importanti i neuronutrienti per una nutrizione di segnale, sappiamo quanto sia importante il fabbisogno medio giornaliero di una vitamina, di un minerale. E questo deve essere tenuto in considerazione, perché se io non lo assumo o non lo assimilo, c'è un problema. Se questo è il fabbisogno giornaliero di tutte le vitamine, di minerali, di aminoacidi, eccetera, eccetera. Quindi, a seconda delle specifiche esigenze dell'età, oppure maggiore richiesta, c'è un apporto standard. Però non è detto, mica si nasce tutti uguali. Basti pensare all'importanza, magari abbiamo una carenza di vitamina B1 e mi danno la B12 o la vitamina D, perché è una moda, devo anche capire in maniera personalizzata qual è la carenza specifica di cui ho bisogno. E soprattutto i minerali. Quanto è il ruolo dei minerali a livello della funzionalità cellulare? Quanto è importante lavorare sugli acidi grassi essenziali? Quindi capire se invece dell'omega 3 ho bisogno dell'omega 6. E invece la moda spesso è omega 3. E magari un equilibrio, magari, di queste sostanze. Sapere magari il sistema antiossidante è fondamentale. per riconoscere quello che ha bisogno nel mio corpo per combattere l'eccesso di radicali liberi e modulare lo stress ossidativo. E lo stesso magari a livello gastrointestinale. Sappiamo quanto sia fondamentale. Oggi si vedono moltissime riattivazioni. Virosi, Epstein-Barr, citomegalovirus, eccetera. Cosa stiamo facendo per capire effettivamente se quale persona ha questo problema? Sappiamo che le molecole di segnale possono avere un ruolo notevole dal punto di vista epigenetico ma anche il ritmo sonnoveglia è un segnale epigenetico importante. Eppure noi andiamo a letto quando ci viene sonno e non si va più a letto nelle ore giuste. Perché siamo, vamos a dire, sulla ruota dei criceti. Allora abbiamo una scelta sicuramente che è quella di uno stile di vita migliore ma quanti di voi possono consigliare di cambiare città, casa e lavoro ai vostri pazienti? È molto difficile. Eppure magari vivono in un ambiente inquinato. Lavorano in un ambiente inquinato, dormono in un ambiente inquinato. Pensate che l'impatto ambientale e il rischio sanitario siamo a 400.000 nuovi casi di tumore, 180.000 morti premature a causa del cancro con una concentrazione dei territori soggetti e inquinamento ambientale. Questo è un altro messaggio importante che bisogna tenere in considerazione. L'evidenza di questo impatto ambientale ci dice che dove c'è un alto impatto ambientale c'è un decadimento cognitivo. Questo è uno studio molto interessante dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Un ancora, effetti inquinamenti ambientali sulle salute dei bambini, inquinamenti ambientali ai tumori, sono cruciali le previsioni e la prevenzione del rischio, bisognerebbe lavorare soprattutto. Guardate, stimate in circa 178 miliardi di euro solo nel 2018. I danni da fumo, inquinamento atmosferico, fumo passivo, radon e raggi ultravioletti, eccetera. E allora, questo è il progetto della medicina dei medici di famiglia insieme a Roberto Romizzi, come sapete il presidente della ISDE, Sistema Italiana Medici per l'Ambiente. Inquinamento atmosferico e salute è il ruolo delle cure di prossimità. Il bisfenolo se ne parla pochissimo, eppure se andate sull'EFSA ci dice attenzione, il BPA è considerato un interferente endocrino. L'aumento di rischio di obesità e di tumore mammario particolarmente è molto preoccupante e questo ormai sta diventando una vera e propria pandemia. Eppure bottiglia di plastica, biberon, vi ricordate quando l'hanno tolto del biberon, adesso al posto del bisfenolo A c'è il bisfenolo C. Le soluzioni, secondo gli andrologi, dicono guarda, devi congelare il liquido seminale a 18 anni. Questa è una soluzione? Questa qui non è una soluzione per combattere l'inquinamento. Già nel 2010, no? Uscito il time, attenzione, il DNA nel tuo destino, quello che farai prima della gravidanza e durante la gravidanza condizionare la salute delle future generazioni. E di qui di quanto ne parla sempre Damiano sul discorso del controllo dell'infiammazione, sul sistema proprio importante legato all'epigenetica, al soffro della vita, al rimodellamento della cromatina. Allora cosa stiamo facendo per la prevenzione? Ma soprattutto nei padri e madri prima del concepimento. L'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro ce lo dice chiaro. L'epigenetica studia come l'età, l'esposizione ai fattori ambientali condizioni, la salute e l'espressione dei geni. Ma io non posso fare ricerca scientifica sul fatto che il fumo mi ha modificato all'mRNA, lo so già che è un danno. Devo incominciare a dire vuoi un figlio a non fumare? Punto. Hardware software, lo conoscete benissimo, è fondamentale oggi conoscere gli indicatori epigenetici, magari con una tecnologia in grado di capire quali siano i fattori che possono condizionare la salute della persona. Ma non posso correrare all'esame del sangue, perché se io correlo all'esame del sangue mi basta fare l'esame del sangue. Quindi cosa mi serve? Un altro test per capire. Io devo avere un test che mi vado a vedere cosa accade a livello intracellulare, cellulare, se c'è un danno mitocondriale, se c'è una carenza, se c'è una richiesta di maggiori antiossidanti, minerali, enzimi, eccetera, per contrastare e combattere la tossicità, rimuovere le tossine. La metodrome cronormica ci dà una grande mano, sicuramente, sulla predizione di patologie, però è chiaro che dobbiamo fare una serie di esami. Però anche lì noi vogliamo lavorare sulla prevenzione, non sulle malattie, giusto? Siamo in un congresso di medicina anti-aging, rigenerativa, predittiva, preventiva. Allora dobbiamo supportare soprattutto per capire la causa che ha mai scatenato il problema. E per andare alle cause devo conoscere i fattori che mi danneggiano e quelli che mi proteggono. E in questo ruolo sappiamo quanto sia importante la rimetilazione del DNA, per esempio, controllare le carenze a livello del controllo dell'omocisteina, no? Sulle vitamine, sugli aminoacidi, per esempio la serosimetionina. Beh, la scienza che allunga la vita, premio 9 alla medicina 253 lavori scientifici, ci ha messo in evidenza quanto sia importante controllare questi fattori, dallo stress cronico alle carenze e all'inquinamento che accorciano i telomeri già nella pancia della mamma. Allora se lì c'è un problema già di aspettativa di vita dobbiamo incominciare a lavorare proprio su questo fatto. Nella comparsa dei tumori conta l'epigenetica. Ma è tardi. Dobbiamo fare prevenzione, ma anche nella fibromialgia, allora, nella stanchezza cronica, nella neurogenerazione e nell'invecchiamento. Tutto è epigenetica. Si è trasmessa, è trasmissibile fino alla terza, quarta, quinta generazione. E allora cosa stiamo facendo? Stiamo leggendo solo questi dati. 500.000 morti premature in Europa, l'Italia è al primo posto, a causa dell'inquinamento. Fumo di sigaretta, secondo voi quanto può inquinare il fumo di una sigaretta? L'Istituto Tumori di Milano ci ha detto che un fumo di sigaretta inquina come 15 macchine diesel. Una sigaretta. Pensate quanto abbiamo fumato anche negli ospedali, ma soprattutto nei ristoranti, nei cinema, negli aerei, nelle case, nelle macchine con i bambini. E questo è quello che ci hanno regalato, che abbiamo regalato alle future generazioni. Allora tutti i distruttori endocrini, sostanze chimiche, particolate e metalli pesanti, sprogrammano la vita già a livello fetale. Quindi, secondo i medici per l'ambiente, tutto ciò entra nel ciclo biologico della vita anche attraverso l'allattamento, che passa nel sangue e nel latte anche a distanza di anni. Allora dobbiamo incominciare a prevenire sulla salute delle cellule prima della gravidanza, per avere cellule sane e mettere al mondo bambini sani. Già questo articolo interessante, tra cui anche il professor Burgio, si dice, attenzione, questi fattori interagiscono a livello embrionale. Questo è un documento ufficiale, Senato della Repubblica, 193 pagine, scaricatelo, molto interessante, se siete interessati all'argomento, effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza di tumori, malformazioni, neonatale ed epigenetica. Lì ci dice, però si sottolinea che tutto è epigenetica, tutto viene trasmesso a livello transgera nazionale. Già questo è lo studio importante sui primi mille giorni di vita, ma lo sappiamo già che c'è un problema, che già accorcia i telomeri. Averto sempre i cinque minuti. E tutto questo, grazie, e tutto questo ormai viene definito veramente una vera e propria pandemia. Noi con l'Università di Sassari stiamo facendo un lavoro importante sui centenari e stiamo già vedendo questo test epigenetico già che, scusate il termine, gli anziani che vivono in cattività, nell'RSA, rispetto ai centenari che vivono nei luoghi di vita di sempre c'è un abisso. Realmente è qualcosa di importante, soprattutto a livello emozionale. Quindi possiamo lavorare sul sistema immunitario. Già l'obesità è un problema epigenetico, di programmazione epigenetica già in gravidanza. Aumento le malattie regenerative, soprattutto nei bambini, prima di 0 a 2 anni aumentano i tumori. Abbiamo 1 su 36 bambini che nasce autistico oggi. 1 su 36. Una malattia epigenetica, la terroscherosi, ma anche pediatrica, nella terroscherosi pediatrica. Quindi l'epigenetica. Tutto questo, questi sono tutti i fattori di impatto ambientale, 140.000 sostanze chimiche, abbiamo 370.000 nuovi casi di tumore maligno, abbiamo tutta una serie di sostanze che noi conosciamo bene, ma l'Associazione Italiana Oncologia Medica sarà messa come fattore di rischio veramente importante per la nostra salute. Dovremmo tenerne conto perché siamo a 60% di infertilità secondo la Società Italiana di Reproduzione Umana. Basta pensare poi ai danni da campi elettromagnetici che ormai sono diventati babysitter. Basta pensare al fatto che aumentano proprio tutte queste stanchezze croniche dovute ai campi elettromagnetici. Le bambine oggi si sviluppano lì dentro, dentro questo ambiente. Quindi dobbiamo incominciare a lavorare sull'ambiente, sull'acqua del corpo, sul fatto che tutti questi fattori aumentano lo stress nitrossativo e aumentano lo stress nitrossativo, ossidativo, danno mitocondriale, infiammazione, malattia. Questo è un studio importante europeo 2016 pubblicato. Quindi tutto questo ci può permettere oggi di capire in maniera personalizzata attraverso dei report cosa abbiamo bisogno e cosa intervenire e cosa fare a livello cellulare e soprattutto a livello dei sistemi. I mitocondri ne hanno parlato ma i mitocondri sono il segreto della vita perché decidono la longevità secondo anche gli studi del professor Cossarizza di Genova ci servono per combattere l'inquinamento e prevenire le malattie ci servono come diceva prima anche sul discorso gastrointestinale è importante sapere che le mutazioni del DNA ereditate per via materna influenzano sia il microbiota intestinale sia le malattie essere correlate quindi tutte le malattie sono legate alla disfunzione mitocondriale poi l'ossigeno l'ossigeno è una fonte di vita attenzione bisogna modulare l'ossigeno e quindi lavorare questo è un libro che abbiamo scritto insieme a 20 medici è molto importante se siete interessati questo è veramente un testo interessante sulla modulazione di ossigeno quindi un uomo intelligente risolve il problema un uomo saggio lo evita dobbiamo come questa è una tua diapositiva Damiano ho preso in presso sulla medicina personalizzata predittiva preventiva e partecipativa dove bisognerebbe incominciare a parlare anche del fatto che c'è una medicina che è rovesso dalla medaglia la biofisica la biofisica viene prescritta tutti i giorni risonanza magnetica non creare è medicina quantistica l'elettrocardiogramma l'encefalogramma è medicina quantistica non se ne parla come mai dovremmo incominciare anche questi strumenti è medicina quantistica noi prendiamo lo spettro delle frequenze delle sovranze perché tutto vibra secondo la professoressa Ferrante dell'università di Padova vado in conclusione i capelli sono un biomarker importante ma il bulbo del capello è molto più importante che il capello il bulbo del capello se viene analizzato entro tre minuti entro tre minuti ti permette di avere un'informazione molto importante una fotografia importante come un test in vivo invece che vitro che è un abisso e questo ci permette di avere tutte queste preziose informazioni che voi sapete ormai il capello è un biomarker importante è connesso con la matrice extracellulare la NASA l'utilizza per la salute degli astronauti viene addirittura utilizzato per i disturbi psichiatrici ma questo è lo studio che ho voluto portare perché ce n'è tantissimi ho preso uno pensate che il cortisolo è molto più interessante ma parlo sul bulbo sui capelli perché ha una emivita molto cioè mantiene archivia per almeno tre mesi queste informazioni questo studio dimostra che può anche mantenerlo oltre i tre mesi fino a sei mesi e guardate quanto sia importante la risposta riguardante l'iperattività dell'asse ipotalamo ipofisi sul rene e quindi è molto interessante capire che il cappello è un biomark molto utile per la nostra salute la tecnologia è unica al mondo e ci permette di avere di fare questa mammatura su 800 fattori naturalmente tutti i certificati voglio lasciarvi con questo messaggio che tutto è meraviglioso ma se non abbiamo amore per noi stessi per il prossimo per la vita nulla può essere cambiato grazie di cuore grazie